Creare percorsi formativi gratuiti altamente professionalizzanti per giovani diplomati in grado di rispondere alla domanda di occupazione proveniente dal settore della moda e del design. Taglio del nastro per il secondo anno del bianno di formazione per i giovani che hanno superato la selezione per partecipare ai corsi di specializzazione in abbigliamento sartoria uomo, calzature e pelletteria e fashion communication finanziati dalla Regione Campania. 2000 ore di formazione di cui 800 in stage aziendali a disposizione di oltre 60 giovani tra i 18 e 35 anni già in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore. L'iniziativa è stata presentata presso la sede dell'Accademia della Moda di Napoli dove si svolgono i percorsi formativi realizzati dalla fondazione ITS Campania nata dal partenerato tra imprese del settore tessile abbigliamento e calzaturiero e gli enti locali insieme alle università, le agenzie formative e le associazioni di categoria. Un modello virtuoso di collaborazione pubblico privato evidenziato dall'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini. L'ITS è un sistema che funziona, in Campania ci sono 9 ITS che stanno dando delle opportunità ai nostri ragazzi, è un sistema che avvicina quelle che sono delle istituzioni scolastiche ma naturalmente anche enti di formazione e aziende, questa poi è la chiave che può consentire ai ragazzi di avvicinarsi al mondo del lavoro. All'inaugurazione dell'anno accademico ha preso parte anche l'assessore regionale alla formazione Chiara Marciani. I percorsi ITS sono sicuramente un'ottima novità nella nostra regione ma si inseriscono in un sistema virtuoso. Penso al sistema duale che ha portato dei corsi anche in questo settore delle calzature e della moda ma anche una serie di strumenti che poi sono a disposizione di tutti i giovani della nostra regione che una volta terminati questi percorsi di studio vogliono entrare nel mondo del lavoro. Un modello di formazione innovativo adottato anche in altre realtà professionali, come evidenzia il direttore dell'Accademia della Moda di Napoli, Michele Lettieri. In Accademia noi abbiamo sia percorsi triennali che percorsi specialistici, per questo crediamo molto nel modello classico a cinque anni di studi. Sul ruolo dell'ITS è intervenuta la direttrice della fondazione, Tania Castiello. L'ITS attualmente sta gestendo tre corsi di specializzazione, uno nel settore delle calzature, l'altro sartoria maschile e l'altro sulla comunicazione. Tutto ovviamente in direzione del settore moda.